Pazienti covid curati a casa con i farmaci, ormai le richieste portate avanti dai medici di famiglia sono pronte a diventare realtà. Durante la riunione convocata dal prefetto Angelo Sidoti, richiesta fortemente dal sindaco di Verbagna Silvia Marchionini, Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, Ordine dei Medici del VCO, alla presenza del direttore generale dell'ASL Angelo Penna, sono giunti a un accordo su alcuni punti strategici. Il primo prevede il coordinamento da parte dei medici di famiglia e delle unità speciali di continuità assistenziale, che saranno a breve operative, formate da tre medici neolaureati. Inoltre, in fase di stesura, il protocollo per la somministrazione ai pazienti che si curano a casa del farmaco antimalarico, del quale l'AIFA ha autorizzato la somministrazione anche fuori dal ricovero ospedaliero. Il protocollo dovrà poi essere approvato dall'ASL e venire così applicato. Noi siamo pronti a partire, assicura il dottore Antonio Lillo, segretario provinciale della FIMG. In questi 40 giorni i medici di famiglia ci sono stati, pagandola anche cara. Ci siamo dovuti far sentire per avere le mascherine. Siamo convinti che la buona medicina sia possibile solo con la collaborazione di tutti. Dobbiamo fare sistema per riuscire a far arrivare in ospedale il numero minore di pazienti possibili. Giorni a dir poco pesanti per i medici di famiglia che sono il primo riferimento per le persone spaventate e sofferenti, ma anche di soddisfazioni come racconta Lillo. Per la prima volta ho ricevuto messaggi dai miei assistiti che mi chiedono come sto. L'ho trovato molto bello. Soddisfatto anche Daniele Passerini, presidente dell'Ordine dei Medici del VCO. Quello su cui ci siamo accordati era ciò che non si poteva più rimandare e che già è stato messo in atto in altre parti d'Italia. Vogliamo trattare il più possibile i pazienti a casa perché ne arrivino sempre di meno in ospedale con la polmonite interstiziale. Un'altra richiesta avanzata dai medici che rispecchia un problema che si propone un po' ovunque è quella di ridurre i tempi per avere i risultati dei tamponi per poter iniziare le cure il più presto possibile. Il sindaco Silvia Marchionini ringrazia tutte le parti, ricorda l'importanza dei dispositivi di protezione individuale per i sanitari. Ieri sono stati donati camici con cappuccio realizzati dalla Sarta Alicia Zimonti di Suna tramite l'associazione Amici dell'Oncologia. Intanto la prefettura ha effettuato controlli sulle dichiarazioni delle 303 aziende che hanno comunicato la prosecuzione dell'attività in base al decreto del presidente del Consiglio senza riscontrare irregolarità. Ora Carabinieri e Guardia di Finanza verificheranno che le produzioni si riferiscano esclusivamente ai filoni consentiti per garantire la continuità dei servizi essenziali.